Flavio è arrivato in Istoreto come docente comandato nel 2009 e fin da subito si è occupato di innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie. Ha progettato i corsi sulle TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica e proprio su questo tema ha organizzato il convegno nazionale ISNI didattica della storia e laboratori digitali la guerra dei trent'anni che si è svolto a Torino nel 2015. Dal 2017 ha concentrato la sua attenzione su Wikipedia principale fonte di informazione storica non specialistica spesso fruita in modo passivo. Flavio ha intuito che Wikipedia poteva essere uno straordinario laboratorio di natura teorico pratica che consentiva di confrontarsi con le fonti, con la scrittura e con la public history. Ha quindi progettato e organizzato tre edizioni del corso La palestra della storia pubblica Wikipedia. Nel 2018 questo percorso si è concluso con un partecipato evento pubblico, un editaton, vale a dire una maratona di scrittura per Wikipedia che si è svolto al Polo del Novecento nel maggio e ha visto la partecipazione di oltre 110 tra ragazzi e i docenti. Le ultime edizioni di Wikipedia si sono svolte all'interno del Polo del Novecento nell'ambito dei progetti integrati di didattica e hanno visto la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte e anche di Wikimedia Italia. Flavio ha lavorato insieme agli enti partner del Polo per l'area di Torino e anche con la rete degli istituti piemontesi di storia della resistenza per il resto del territorio regionale. Parallelamente a questa sua attività dall'ottobre 2018 è stato coordinatore della direzione della rivista di didattica della storia online 900.org, membro della commissione didattica e del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parvi e socio dell'Associazione Italiana di Public History.